C'era una volta una bella ragazza chiamata a televisione, tutti la corteggiavano, tutti volevano portarsela a letto, pensa che gli uomini per lei avevano finito col fatturare il teatro, il cinema e purtroppo il cinema l'ha dettato un'altra. Un bel giorno però, televisione conobbe un giovannotto che si chiamava computer, entrambi avevano un schermo, dei tasti e degli altoparlanti, lei la televisione quasi gestiva con un affarino chiamato, ti recomando, e lui invece aveva una scatolina grigiana, eccola qui, che si chiamava, mouse, va bene, va bene, però un po' vissero ogni anno quel punto su, poi si sposarono ed ebbero un figlio a cui furtavano il nome, internet. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!